Musica Ne ho parlato con Renzi di nominare Maria Carmela Lanzetta nella giunta della Calabria e con lo stesso ex ministro ho avuto un colloquio sabato. Da lei ho avuto l'assenso a che entrasse a far parte del governo regionale. Domenica sera ho annunciato la formazione della giunta. Se poi Lanzetta decide di non farne parte bisogna rispettare la sua volontà. Mi dispiace ma è così. Lo ha detto il neopresidente della regione Calabria Mario Oliverio a margine della conferenza delle regioni a proposito dell'ipotesi che il ministro per gli affari regionali Maria Carmela Lanzetta rinunci ad entrare nella giunta della regione Calabria. Io ho nominato Lanzetta perché ritengo che con la sua presenza porti un'esperienza di governo che ha consentito un quadro di relazioni. I componenti della nuova giunta erano noti da domenica sera e non da ieri ha concluso Oliverio. Intanto l'assessore della regione Calabria Nino De Gaetano del PD nominato nei giorni scorsi dal neogovernatore Mario Oliverio si dichiara estraneo a qualsiasi ipotesi accusatoria di voto di scambio a suo carico e ribadisce la sua fiducia nella magistratura assicurando che si dimetterà qualora dovessero emergere profili di reità a suo carico. Preciso aggiunge De Gaetano di non essere mai stato destinatario di informazione di garanzia né di alcun provvedimento cautelare atteso che dagli atti giudiziari ampi stralci dei quali sono stati già pubblicati dalla stampa locale nazionale emerge come correttamente i magistrati non abbiano condiviso la prospettazione accusatoria della squadra mobile di Reggio Calabria ritenendo insussistente la gravità indiziaria nei miei confronti. Io credo che Oliverio ha parlato in maniera chiara ho sempre detto che sono molto rispettoso l'ora della magistratura che fa bene in questa regione così complicato il suo lavoro anzi va dato merito per quello che fanno in condizioni molto difficili e quindi mi fermo a questo e vorrei chiudere queste polemiche come dicevo prima le ha dette bene Oliverio e vorrei essere giudicato per quello che farò in questi mesi. Grazie a tutti.